Non pensarci neanche. Chi ucciderà tutti, Shepard? Questo è da vedere. Intendo Udina. Ha organizzato un colpo di stato. Ha in mano gli altri consiglieri. Li consegnerà a Cerberus. Tre contro uno, amico. È finita. No, il bello inizia ora. No, il bello. 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 Quanto è grave? Ho tempo. Prendilo. Shepard, che succede lassù? Serve assistenza medica. E io devo occuparmi di un assassino. Sarà sulle tracce del resto del consiglio. Varga la voce. Udina vuole prendere il potere. Devo raggiungere i consiglieri.